Ciao a tutti, come sfruttare a proprio vantaggio la competitività femminile? A proprio vantaggio sia che sei uomo sia che sei donna, insomma. Intanto dobbiamo tenere presente questo, che non tutte le donne sono competitive, ma la grande maggioranza sì. La grande maggioranza sì, perché diciamo che tutte le persone egocentriche, in qualche modo, sviluppano il loro egocentrismo proprio attraverso la competitività. E al giorno d'oggi le persone egocentriche ce ne sono talmente tante, ce ne sono moltissime, direi secondo me lo 70-80% della popolazione, diciamo così. Allora, e quindi però vi sono donne che tendono a sviluppare la competizione con gli uomini e donne che tendono a sviluppare la competizione con le donne. Intanto come riconoscere questo tipo di competizione, diciamo così? Beh, prima devi capire il strato di persone egocentriche. Le persone egocentriche si capisce abbastanza facilmente, sono persone abbastanza centrate su se stesse, non sono dirette, perché le persone che non sono egocentriche o incarnano, diciamo, un modello dittatoriale, diciamo così, un modello estremamente morbido, eccessivamente materno, diciamo così. Le altre, quelle che sono più un mix, sono egocentriche. E si riconoscono, quelle con competizione maschile, quelle con competizione femminile, un po' dal look, dall'abbigliamento, dal modo di fare. Quelle che vivono, tendono a vivere la competizione con i maschi, hanno, diciamo così, un qualcosa di mascolino. Nel senso che tendono ad avere, magari, un abbigliamento sexy, ma un po' duro. Diciamo che il prototipo, fondamentalmente, della donna competitiva con i maschi, è la catwoman, no? Diciamo così, minigone in pelle, abbigliamento stile, leggermente aggressivo. Mentre invece, la donna che vive la competizione con le altre donne, è un po' più la suorina, è la cosiddetta gatta morta, diciamo. Cioè, non tutte quelle che vivono la competizione con le donne sono gatte morte, ma la gatta morta appartiene a questa categoria, e quindi a quella categoria di donne, diciamo così, che sono più femminili, ma più conformi al ruolo, diciamo così, istituzionali nella femminilità. Ecco, diciamo questo. E anche loro hanno le caratteristiche egocentriche. Quindi, vediamo tutti i casi possibili. Allora, se tu sei donna, come sfruttare a tuo vantaggio la competitività femminile, la competitività con altre donne? Devi tenere presente che se sei donna, saranno le donne in competizione con te, ok? Quindi, tu sei donna, saranno in competizione con te. E troveranno interessante tutto ciò che piace a te. Quindi, tu, però, come dire, se tu vuoi sfruttare a tuo vantaggio, devi far vivere la competizione, non tanto con te, quanto con un'altra donna. Devi metterli in competizione con un'altra donna. Ad esempio, nell'ambiente di lavoro, se tu prendi due donne che tendono a vivere la competizione con le donne, e le metti a fare lo stesso lavoro noioso, a fare le fotocopie, queste cercheranno di dimostrare una e l'altra di essere più brave, di essere più brave dell'altra, perché, diciamo, il loro obiettivo è sviluppare una competizione. Quindi dimostrare di essere più brave, quindi ti faranno quel lavoro noioso delle fotocopie. Il lavoro diventa uno strumento per vincere con un'altra donna. Poi potresti usare questa cosa per fare un favore a un tuo amico uomo, che magari è interessata a una, perché se nel momento in cui tu ti dimostrerai interessata a questo tuo amico, l'altra lo vorrà, e quindi cercherà di portartelo via, quindi tu puoi fare un favore a un tuo amico, gli fai da spalla, lo corteggi un po', e subito lui accatturrà l'attenzione della donna competitiva. È ovvio, devi stare attenta, però quando conosci una donna che è competitiva con un uomo, di non assolutamente far trappelare il fatto che sia interessata a un uomo, se no questo affare di tutto e portatelo via. Devi stare attenta a non presentargli il tuo marito, il tuo fidanzato, eccetera, perché non tutte, diciamo così, ma quelle che vivono eccessivamente la competizione, perché poi la gatta morta è una che vive eccessivamente la competizione, tenderà a portatelo via, tenderà a portatelo via. E la gatta morta, e in generale le donne che sono competitive con le donne, tendono a essere, diciamo, a presentarsi inizialmente con un basso profilo, non sfoggiano mai, che ne so, vestiti eccentrici, minigonne, scollature, inizialmente si presentano come, diciamo, con un basso profilo, quando sono, che ci sei anche te, poi la femminilità e la, come dire, la seduttività la tirano fuori quando riescono a, a vedere da solo il tuo uomo, fondamentalmente, quindi lì ci va fatta molta, molta attenzione. Se sei un uomo, come fai a sfruttare la competitività delle donne con altre donne, beh, è semplice, le metti in competizione tra loro, le metti in competizione tra loro, cioè, nel momento in cui dai un po' di attenzione a una, ti conviene portarti sempre un'amica, diciamo, un'amica che sia un po' interessata a te, perché se te la porti dietro, e magari in una comitiva, comunque, in una comitiva, mettendola in competizione tra loro, riesci subito ad acquisire l'attenzione, quindi va vissuta la competizione, cioè dai un colpo a una, un colpo all'altra, in modo tale che loro entrino in competizione, quindi verranno loro da te, perché tu vivrai la competizione. Se invece ce n'è solo una competitiva con le donne, e tu, insomma, devi cercare di trovare neanche un'altra, in modo tale da, o un'amica, diciamo, che dimostri di essere interessata a te, perché in questo modo attirerai, diciamo, l'altra come mosca al miele, diciamo così, no? Se nell'ambiente di lavoro, se fai il capo ufficio, più di due donne che sono in competizione tra loro, come dicevo, prima le metti a fare lo stesso lavoro, e queste lavoreranno tanto per, diciamo, lavoreranno tanto per, per viversi la competizione, per dimostrare una di essere più brava dell'altra. E quindi se sei uomo. Poi ci sono le donne che sono competitive con i maschi, con gli uomini. Allora, come sfruttare questa caratteristica? Se sei uomo, devi metterla in competizione con te, fondamentalmente. Cioè, nel senso che, se sei lei che ti interessa, davanti ad altre donne, cioè, fai la corte a tutte, meno che a lei. Perché in questo modo, dentro la sua testa scatterà l'idea, come mai questo a me non mi fa la corte? Allora gli avverrà la voglia di sedurti, gli avverrà la voglia di coinvolgerti. Questo è molto utile. Ovviamente, riconoscere queste è abbastanza semplice, perché sono donne un po' più, ripeto, la catwoman è il profilo, poi ce ne sono diverse gradazioni. Però, comunque, si capisce subito che la competizione ad uno con gli uomini, sia nell'ambito lavorativo, e in altri ambiti. Se sei donna, come fare a sfruttare, a sfruttare questa cosa? Beh, l'unico modo per farlo è, diciamo, diventare l'amica del cuore, il grillo parlante, e dirle, guarda che, lanciarle l'idea che qualche uomo vuole farle le scarpe, in qualche modo, in questo modo, acquisisci subito un ascendente nei suoi confronti. Quindi deve entrare, fondamentalmente, come il grillo parlante, come quella che gli dà consigli, come quella che gli dà suggerimenti, è evidente che loro, diciamo, non tenderanno a fregarti il maschio, perché non sono interessato a vivere la competizione con una donna. Quindi, da questo punto di vista, puoi stare molto più tranquilla, che se tu hai un uomo, non cercheranno di portartelo via, perché proprio non vogliono vivere la competizione, la competizione con te, insomma, sono il contrario delle gatte morte. E anzi, valorizzano molto l'amicizia femminile. Per cui, con questo tipo di donne, puoi, ripeto, instaurare un'amicizia femminile, che può diventare molto più forte, se tu gli metti la pulce nell'orecchio, che magari sul lavoro, in ambienti anche sentimentali, insomma, devi mettere, come dire, un po' in cattiva luce qualche maschio, diciamo così, così acquisisci subito la fiducia, e in questo modo riesci ad ottenere anche un rapporto molto importante, insomma, con questa tipologia di donne. Bene, per questo video è tutto, lasciate i commenti qua sotto, sono molto interessanti, soprattutto i commenti delle donne, se avete mai incontrato delle gatte morte, come vi siete comportate, perché le gatte morte sono un po' la peste, visto come la peste dalle altre donne. Bene, e poi iscrivetevi al canale, e se questo video vi è piaciuto, condividetelo con i vostri amici, e mettete un like. Ciao a tutti, al prossimo video. Ciao. Ciao. Ciao.